Perfetto. Ok. Allora Cristomo da dove viene? Dalla provincia di Caserta. Allora io sono Mimmo e il tuo video, ma... Fa benissimo. Forte. Ma perché non lo conosci, per quello che dice Esatto. L'ho intravisto l'altra volta. So che ha più di 2.000 voli. Un po' di più, parecchi di più. Molti di più. Quindi... Cobra. Cobra Flight. 40 secondi. Via. Cobra. Certo. La Casa. Certo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Vai, tira. Tira, Cristof. Allora com'è? Vecchietto. Bellissimo. L'ho portato in salvo. Tu dici sotto sotto e poi ci sono andato sotto di brutto perché mi dicevi sotto cosa? Perché vai sotto così lo vedi in faccia. Sì, ci ho provato la prima volta, la seconda invece... Ce la vedo camera accesa, è accesa. È buono questa. Quale? Questa di sotto. Questa? Non si taglia. Sì, ma se tu vai sotto io non ti faccio ombra. Eh sì, in quel caso è successo qualcosa e sono andato sotto. Ti sei chiuso? Cioè è andato sotto e hai guardato giù. Ma io non l'ho guardato giù, ho guardato su, però ti sono andato sotto. Ma io non l'ho guardato giù, ho guardato giù.